Loro mangerebbero solo gelato e pizza e quasi sicuramente preferirebbero le tagliatelle della nonna al cibo della menza scolastica, ma, come si dice, di necessità si fa virtù e così i nostri ragazzi hanno imparato a mangiare e spesso ad apprezzare il cibo delle menze. E' quanto emerge dalla ricerca di cittadinanza attiva sulle menze scolastiche, secondo cui due bimbi su tre amano mangiare a scuola, ma solo uno su dieci dice di finire tutto quello che gli viene servito. Dall'indagine emerge che il cibo degli istituti scolastici è di buona qualità, la pulizia è adeguata, ma gli ambienti sono troppo rumorosi e non proprio accoglienti. Il problema, quindi, sembrerebbe soprattutto di natura strutturale. Più di una menza su tre non ha impianti antincendi ed elettrici adeguati. Uno su dieci è fatiscente, uno su cinque non è abbastanza spazioso, solo la metà risulta accogliente e ben arredata. Delle 79 scuole prese in esame dall'indagine, ben 18 non dispongono di un locale menza. E allora si mangia nell'atrio o in classe. Sulle tariffe emergono notevoli discrepanze fra nord e sud. In media si pagano 700 euro a famiglia, poco meno di 80 euro mensili, una cifra che appare non sostenibile per molte famiglie. L'Emilia-Romagna è la regione più cara, con oltre 1000 euro l'anno, la Calabria la più economica, con 500 euro annui. L'Emilia-Romagna unfortunately è tre uguale. Grazie.